iiii lao eeeh non c'è niente altro in testa tatti non ci vuoi direi ooo cioè fatelo uscire oh fatelo uscire e sbattemi e dov'è in testa Giorgia ma che ultima in testa non so lo cerco e qual'è il secondo? il secondo è Pasquale ma lì che affrontano la piegata con il secondo passaggio in retta con il battistrada ma l'idea che conduce l'idea si presenta alla comanda nei confronti del drago di Brem che risale percorsi esterni in seconda posizione ma l'interno ora mera con la risalita esterna un atto sprint giurta il campo compatto all'inizio della piegata conclusiva ma l'idea che vive nei confronti di Brem in terza posizione il drago di Brem attaccato per decisione e Sandro sta volando si porta in caccia dei due di testa con presso il mio avvicinare la battuta da che finta si piazza per me eh? quella bianca e rossa quella bianca e rossa ci presentano alla comanda per dare carai per dare carai è piassata? sì 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 sì